Uh, hey! Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta su CanoTV. Scusate la distrazione, ma ero immerso nella mia ultima lettura. Dunque, 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 oggi mi ritrovo qui davanti alla telecamera per un video molto veloce, un video particolare. Particolare? Perché particolare direte voi? Beh, risponderò io, perché si dà il caso che il sottoscritto ultimamente abbia vinto un certo quiz. Per puro culo, eh? No, lo faccio presente subito, anche perché tanto chi c'era lo sa, Giuseppe Rossi, Tavola Calda e via dicendo lo sanno. Per pura fortuna il sottoscritto recentemente ha vinto un certo quiz e quindi, e quindi stamane gli è arrivato il premio scaturito dalla vittoria di questo quiz. Saluto e ringrazio naturalmente la soffitta di Pippo, Roberto della soffitta di Pippo, che è uno dei canali YouTube storici per quanto riguarda la nostra nicchia, diciamo, di appassionati che ci esponiamo tramite dei video per parlare di fumetti. La soffitta di Pippo è un canale molto interessante perché tratta non solo fumetto, ma più nello specifico direi quasi storia del fumetto, nel senso che molto spesso parla di fumetti dessai, che di fatto hanno costituito la storia di questa forma d'arte, fumetti che spesso e non volentieri vengono poco trattati anche da altri appunto canali che si occupano di fumetti. La soffitta di Pippo è altresì celebre per organizzare ciclicamente, insomma, dei quiz, il cui vincitore ha diritto ad una famosa ormai busta di fumetti gratis direttamente donati dalla soffitta di Pippo, che è un gesto molto bello, un gesto di condivisione che andrebbe sicuramente imitato, ecco, per quanto c'è possibile. E quindi il sottoscritto ha vinto uno di questi quiz e stamane, stamane, ha recuperato la famosissima busta della soffitta di Pippo che è arrivata, che io naturalmente ho già aperto perché non ho resistito alla curiosità e, insomma, uno dei volumi che c'erano all'interno l'avrete già visto perché, insomma, pezzo da 90 di questa busta di fumetti arrivata ora a ora, insomma, dalla soffitta di Pippo è il numero, un numero del 1980 di Playboy, del 1980, costava 3.000 lire e aveva Sidney Rome in copertina, no? Sidney Rome che all'epoca era giovane, era, io mi avventuro già che ci sono a mostrarvi qualcosa, non so fin quanto vi posso mostrare, però, insomma, una foto così merita assolutamente di essere mostrata, direte voi, ma direi di sì, risponderei io. Per cui, ecco, una bellissima rivista storica perché ha 42 anni questa rivista, molto interessante anche perché c'è innanzitutto una bellissima intervista a Renato Pozzetto che io ho avuto modo di leggere, se la ritrovo, era nelle primissime pagine, eccola qui. Insomma, Renato Pozzetto, voglio dire, è sempre Pozzetto, no? Qui, naturalmente, nel 1980 Pozzetto era al massimo della forma, al massimo del suo successo cinematografico e poi in realtà si parla anche di fumetti perché c'è un articolo su Mandrake, il celeberrimo personaggio fumettistico del contemporaneo, insomma, di Phantom, per esempio. Eccolo qui, insomma, questo servizio fotografico che io non ho ancora letto, però ci sono degli articoli veramente molto interessanti che in qualche maniera si legano anche al fumetto e poi, insomma, ci sono delle foto abbastanza interessanti con le quali, insomma, ci si può anche in qualche modo intrattenere, no? Naturalmente d'estate bisogna giustamente prendersi i propri momenti di relax. Beh, ma vediamo al succo, insomma, della questione perché in questa busta, io devo stare attento a non mostrare gli indirizzi, no? Gli indirizzi sono qui, qui è terra abbastanza sicura. Dunque, vi mostro appunto i fantastici fumetti che sono arrivati con questa busta e colgo anche l'occasione, naturalmente, per incentivarvi a partecipare a questi quiz, perché la soffitta di Pipo è una miniera senza fondo in quanto a fumetti, per cui veramente se vincete questi quiz, se vi va di culo, come andate al sottoscritto, vi possono arrivare dei fumetti interessantissimi che io non avevo mai letto. E infatti qui che cosa abbiamo? Ma partiamo con la Sergio Bonelli di Tore e abbiamo un numero, più precisamente il numero 10, anche piuttosto tozzo in quanto a pagine, sono 130 pagine di Jean Dix. Io non avevo mai letto, non avevo neanche mai recuperato neanche un numero di Jean Dix. Qui abbiamo l'episodio intitolato La Casa dell'Impiccato, all'epoca costava 3,50 euro, ed è un volume risalente al 2009 per un personaggio creato da Carlo Ambrosini. Naturalmente voi lo saprete già meglio di me, però io non lo sapevo, quindi naturalmente tutti questi fumetti che leggerò poi ci farò un video e ne disquisiremo più nello specifico. Qui abbiamo il soggetto e la sceneggiatura di Carlo Ambrosini per disegni di Paolo Baciglieri che recentemente, credo, abbiamo visto su un old boy per quanto riguarda la testata di Dylan Dog. Baciglieri poi, va detto, è un disegnatore dal tratto sicuramente molto particolare, quindi è un disegnatore dal tratto riconoscibilissimo. Per cui questa, da quello che ho capito, dovrebbe essere una storia autoconclusiva, perché sembra inizi e finisca all'interno dello stesso volume, per cui costituirà per me un ottimo punto di partenza appunto per leggere Le avventure di Jean Dix. Nella quarta di copertina veniva pubblicizzato il numero 11 di questa testata fumettistica, di cui forse si è parlato un po' poco, perché appartiene a quelle miniserie o diciamo testate brevi, ecco, della Sergio Bonelli Editore, che sono rimaste un po' perdute nella memoria. Ed è francamente un peccato, perché, insomma, autori come Ambrosini meritano di essere sempre ricordati. Poi abbiamo, dallo stesso autore di Savarese, Dago e tanti altri fumetti, come mi ricorda il post-it, Martin L. Ecco, anche Martin L è un fumetto naturalmente creato da Robin Wood, grandissimo Robin Wood, che io ho imparato a conoscere tramite Dago, ma che sto continuando ad apprezzare tramite Savarese, va detto. Io recentemente ho anche dedicato un video ai primi cinque volumi di Savarese, che proprio in questo periodo, lo sapete, sta uscendo settimanalmente, edito dalla Gazzetta dello Sport, eccetera, eccetera, e sono storie veramente fantastiche, sceneggiate appunto da questo grande scrittore, da questo grande autore di fumetti, che purtroppo recentemente ci ha lasciati. Quindi, togliendo il post-it e facendovi vedere la copertina nella sua interezza, qui abbiamo a che fare con il volume numero 5 del quinto anno. Credo che la numerazione sia abbastanza simile a quella che era degli inediti, insomma, di Dago di qualche anno fa. Anche la costina gialla lo fa presagire. È naturalmente un bonellide con 98 pagine, con disegni tipici, insomma, della storia della scuola, scusate, della scuola sudamericana. Dovrebbe anche questo essere una storia autoconclusiva. Anche di Martinelli io non avevo mai letto nulla, prima d'ora. Era un personaggio di cui non mi era capitato di trovare niente nei vari mercatini, però ho ascoltato, insomma, qualche video relativo all'argomento e ne ho appreso a essere un fumetto molto importante, diciamo, fra i più conosciuti di Robin Hood, per cui sarà assolutamente mia premura leggerlo e naturalmente parlarne assieme. Poi andiamo avanti, perché ci sono ancora tre chicche veramente stupende. Innanzitutto, prendiamo questo cartonato, qui c'è scritto, se ti sta piacendo Savarese, questo ti piacerà di sicuro. Io forse ho anche capito un po' il perché, perché mi pare che uno dei nomi, Domingo Mandrafina, che è un disegnatore, sia lo stesso di Savarese, se la memoria non mi inganna. Quindi sia lo stesso che recentemente stiamo ammirando, insomma, proprio in questo periodo sulle pagine di Savarese. Qui abbiamo a che fare con un cartonato Euracomics Spaghetti Bros, gruppo di famiglia con omicidi. Bellissimo, anche perché è a colori. Vi mostro nella sua interezza la copertina, molto belli. Gli autori sono Carlos Trillo, Guillermo Saccomanno e, appunto, Domingo Mandrafina. E io vi mostro il volume, peraltro, molto ben curato. Come potete vedere, questo è, insomma, l'illustrazione che funge da introduzione nella seconda di copertina. Ha fatto molto bene questo cartonato. E, come vedete, le tavole, che sono molto interessanti, sono a colori, con carta lucida, anche per cui è un cartonato molto agile, molto comodo da leggere, che presenta delle tavole molto interessanti in realtà. C'è anche una buona colorazione. La storia sembrerebbe essere poi strutturata in capitoli, che è poi una caratteristica da quel poco, perché io in realtà finora ho letto poco di storieta, ma da quel poco che ho imparato ad apprendere, parrebbe essere una caratteristica, appunto, del fumetto argentino. Altro volume molto interessante da leggere, di cui, appunto, poi avrò modo di parlarne. Peraltro ci sono anche dei disegni molto interessanti, come potete vedere, dei bei volti, dei bei disegni. Non so se concepiti già a colori, oppure in bianco e nero. Potrebbero anche essere stati concepiti inizialmente in bianco nero, ma sono veramente molto, molto belli e devo dire che anche il colore è assolutamente bendato. Poi arriviamo alle ultime due, alle ultime due chicche. Qui c'è, insomma, un colpo di fortuna. Non so come faceva a saperlo la soffitta di Pippo, probabilmente l'avrò detto, l'avrò detto in qualche video. Però qui, come recita anche il post-it, qui c'è Kubert, quindi questo è il texone di Joe Kubert. In tutto il suo splendore, questa naturalmente è la ristampa stella d'oro, di cui io, come probabilmente saprà, insomma, chi segue i video relativi a tex, io sto recuperando molti dei texoni in questo formato e quello di Joe Kubert mi mancava. E quindi lo stavo cercando e mi è arrivato dritto dritto dalla soffitta di Pippo, con i suoi fantastici disegni, come potete vedere. Guardate che meraviglia queste tavole, diciamo, valorizzate dal grande formato, no? Questo bellissimo bianco e nero per una storia di tex che si preannuncia naturalmente fantastica, indimenticabile, come lo sono praticamente tutte quelle che compongono i texoni, questa grandissima collana che merita, secondo me, di essere recuperata, anche da chi abitualmente non si avvicina al personaggio di Tex. Sappiate, ma, insomma, io lo amo ripetere tutte le volte che mi ritrovo a parlare di texoni, sappiate che i texoni presentano delle storie autoconclusive, quindi delle storie che sono tranquillamente digeribili anche da chi solitamente non si avvicina alla testata di Tex. Quindi per chi avrebbe qualche timore legato al fatto di non capirci qualcosa, insomma, di continuiti e via dicendo, sappiate che, appunto, non c'è nulla da temere in questo caso. Anche questo texone, analogamente a tutti gli altri, presenta un'introduzione composta da un'intervista all'autore in questione, a Joe Kubert, e naturalmente ci vengono proposte anche alcune delle sue illustrazioni, per cui un volume, come al solito, molto completo e interessantissimo da leggere. Insomma, io, Tex, lo amo sempre. E poi, ultima chicca che a me ha fatto impazzire perché, se non vado errato, potrei sbagliarmi, però, se non vado errato, qui c'è scritto storie fottutamente nostalgiche nel post-it, se non vado errato, questa dovrebbe essere edita dalla Panini, dalla collana supereroi classiche che non so, io sono un grande ignorante in fatto di supereroi, chi segue questo canale lo sa, non so se sia ancora in corso questa collana, ma questa credo che sia, che contenga, insomma, questo volume, la prima storia dell'Uomo Ragno, che io non ho mai letto, con l'introduzione di Fabio Licari, che, insomma, ultimamente stiamo vedendo spesso, no, sulle pagine della ristampa di Mister No, sulle pagine della ristampa di Savarese, si occupa, appunto, di tutte queste importantissime, nonché utilissime introduzioni che ci aiutano a contestualizzare l'opera, naturalmente, perché qualsiasi opera fumettistica, soprattutto se parliamo di storia del fumetto, va contestualizzata, esattamente come la storia del cinema, insomma, qui ho un film mutuo del 1922 con Lon Chaney, protagonista, un film del genere, naturalmente, va contestualizzato e per contestualizzarlo va analizzato, per cui queste analisi che ci sono a modo di introduzione sono sempre molto importanti e io le leggo con piacere e le ricerco anche, perché mi servono, soprattutto per uno come me che ha ancora enormi lacune, naturalmente, sul fumetto. Questa dovrebbe essere, appunto, la primissima avventura dell'Uomo Ragno, credo risalente al 1962, se la memoria non mi inganna, o comunque dovremmo essere lì per lì, insomma, attorno a quegli anni. Ecco, questa è veramente una di quelle chicche che io aspettavo di recuperare da tempo, perché naturalmente è una storia iconica, leggendaria, di cui in molti mi hanno parlato e che veramente ricercavo. I disegni sono naturalmente quelli tipici, insomma, di quell'epoca, conservano, secondo me, ancora un grande fascino e poi il colore, secondo me, ancora molto efficace. Per cui questa veramente è una storia che davvero cercavo da molto tempo, vi faccio naturalmente ancora vedere qualche tavola, e sarò felicissimo assolutamente all'idea di leggerla. Per cui, ecco, questo, peraltro, era proprio il primo numero, sto notando adesso, perché mi è caduto l'occhio sulla costina, era proprio il primo numero della collana Super Eroi Classic. Per cui, non so a che anno risarga, al 1995. ecco, Spider-Man da Amazing Fantasy 15 dell'agosto 1962, quindi 62-63, insomma, dovremmo essere lì per quanto riguarda l'età, l'anno, ecco. Quindi che cosa dire? Insomma, io do un grandissimo grandissimo grazie ancora una volta alla soffitta di Pippo, perché questo è veramente un tesoro, insomma, sia per quanto riguarda il malloppo fisico, che è tutt'altro che indifferente, come potete vedere, ma sia proprio anche per l'idea che c'è dietro, ovvero per quella di condividere e di tramandare le proprie letture, e fondamentalmente arte, cultura, anziché privarsene buttandole o in modi analoghi. Per cui è veramente un grande gesto del quale io ringrazio assolutamente e vi invito tutti quanti a partecipare ai quiz della soffitta di Pippo, perché sono molto interessanti, sono poi anche molto divertenti, e se avete, insomma, la fortuna che è capitato, se avrete la fortuna che è capitata al sottoscritto, vi arriveranno delle chicche che vanno assolutamente lette e condivise, come io stesso farò poi man mano che le leggerò. Grazie a tutti per l'ascolto, naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate di questi fumetti, se ne avete letto qualcuno, se li conoscete, sono fumetti molto importanti, toccano nomi molto importanti per quanto riguarda l'ambiente fumettistico, e per il resto noi ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!